Se stai seguendo questa playlist come principiante e dovessi trovare questo video un po' troppo dettagliato o difficile, puoi saltarlo senza compromettere il resto della playlist, ma il mio consiglio è di provarci e in ogni caso ritornare più avanti quando ti sentirai più pronto. Buona visione! In questo approfondimento proveremo ad estrarre un po' di informazioni dal Process Control Block. Ho preparato due progetti. Nel precedente approfondimento abbiamo visto come, riconoscerete forse la struttura del codice simile, si poteva creare un processo del blocco note e aspettare la sua chiusura. Qui invece del blocco note ho preferito creare un programma tutto nostro anche per poterci fare giochetti magari in futuro e già oggi l'ho impostato in un modo che poi non ho sfruttato, stavo seguendo un'idea, ho comunque lasciato tutto perché è comunque di interesse. Quello che succederà, adesso ve lo mostro, è che partirà il programma collegato al progetto PCBinfo che lancerà il programma del progetto 2Thread, dove andrò, come succedisce il nome, a creare due thread che si palleggiano un po' la CPU ogni tot millisecondi e il programma, diciamo così, principale andrà a interrogare il PCB di questo processo creato. Quali informazioni? Mi sono limitato soltanto ad alcune. Sono andato ad estrarre. Vediamole. Questo è il processo che è stato creato e queste le informazioni estratte. Il processo creato dal primo è strutturato in modo tale da terminare dopo tot millisecondi, è un ciclo di tot ripetizioni. Ogni thread, adesso lo vediamo, mangia 50 millisecondi da cui il totale in secondi visualizzato qui sotto. Non sorprendentemente, per accedere ai dati del PCB serve il PROXESS ID, che è questo, il 5096, essendo il nostro stesso programma che crea l'altro processo, riceverà questo ID come valore di ritorno della funzione CREATE PROCESS. Il primo blocco di informazioni è tutto collegato con l'utilizzo della memoria virtuale. Vedremo più avanti come ci sia un via vai di pagine caricate da disco alla memoria fisica, quando serve, e quella situazione è detta di page fault, cioè l'MMU, l'unità di gestione della memoria, riceve una richiesta per una pagina che non è al momento mappata su una pagina fisica della RAM, è parcheggiata nel cosiddetto backing store, nello spazio su disco dedicato alla memoria virtuale, e allora si genera un meccanismo di page fault, una specie di interrupt, con il quale si va a caricare la tal pagina. Ecco, questo è il numero di volte che è capitato. Tenete conto che la dimensione di una pagina fisica in RAM e anche su disco è di 4K, dovrebbe essere di 4K. Il secondo valore è la dimensione del working set. Di nuovo ne parleremo più in dettaglio nella parte dedicata alla gestione della RAM, ma a livello intuitivo è dato dall'insieme delle pagine di un certo processo che sono più frequentemente utilizzate, quelle che dovremmo idealmente tentare di mantenere sempre nella memoria fisica, per non continuare a scambiare tra disco e memoria fisica. Quel valore lì, 1,990656, non casualmente divisibile per 1024, perché si diceva che si balla con multipli di 4K. È dinamico perché se non abbiamo delle indicazioni certe su quale possa essere, questo insieme di pagine evolve nel tempo, dei tanti algoritmi che dietro le quinte fanno funzionare il sistema operativo. Ecco perché possiamo avere un picco di questo working set, che in questo momento però equivale proprio alla dimensione attuale quando l'abbiamo misurata. Il paged pool fa riferimento a un meccanismo di ottimizzazione, di risparmio della RAM da parte del sistema operativo stesso, però adesso non sarei neanche in grado di approfondire oltre un tot. E mi sono anche fermato con i contatori, ce ne sono altri, poi vi do il link con la struct completa, con l'elenco completo di tutti i contatori. L'altra interrogazione che ho fatto al processo corrispondente all'esecuzione di un'istanza del due thread, il secondo progetto, è l'elenco dei moduli, cioè EXE e DLL, che sono utilizzati. Tra questi troviamo, viene stampato il PEF, ovviamente, l'EXE del programma stesso, e a seguire le DLL. Diamo un'occhiata ai sorgenti. Due thread, partiamo da questo. Buttate l'occhio sugli include necessari. Thread, per poter creare thread e altro. Crono, per fare un po' di misurazioni e poter esprimere i tempi di attesa, che poi vediamo in millisecondi in modo comodo. Mutex fa accedere ad alcune primitive di mutua esclusione, in modo da non lasciare interferire i due thread l'uno con l'altro, poi entriamo in dettaglio, perché condividono la variabile. Ed è chiaro che non deve capitare che la utilizzino insieme. Uno solo per volta, in modalità mutuamente esclusiva, deve poter accedere a quella variabile in un certo momento. Partiamo dal main. Volendo cronometrare il tempo totale di lavoro, dei due thread, ma anche di tutte le altre operazioni svolte per farli funzionare, prendo il tempo. Sfrutto la keyword auto, che dà il giusto tipo a T1, il tempo di partenza. Richiamo dalla libreria Crono, namespace Crono, della classe High Resolution Clock, il suo metodo statico Now. Non facciamo fatica a capire che restituisce il valore segnato in questo momento da quell'orologio interno, che è più preciso di quello che normalmente si utilizza, High Resolution. Possiamo scendere addirittura in nanosecondi, distinguere in nanosecondi volendo. Creare due thread è facile, basta istanziare due oggetti di tipo thread, due chiamati thread1 e thread2. Quello che sto facendo qua è richiamare il costruttore della classe thread, che accetta la funzione che poi verrà eseguita in quel thread. Poi voglio che il main aspetti la terminazione. Sincronizzo il main sui thread, vuol dire non procedere finché il thread1 ha terminato, e ci ricongiungiamo qui, e anche il thread2. Riprendo il tempo, calcolo differenza in millisecondi, intervallo in millisecondi. Int.ms è un oggetto istanziato dalla classe DurationCast, parametrica, che riceve come parametro l'unità di misura, crono milliseconds, e il parametro del costruttore in sé, invece, la differenza tra il momento di fine e quello di inizio. Questo oggetto ha un metodo count che restituisce il numero espresso con quell'unità di misura, millisecondi, durata tot millisecondi. Siccome non volevo qui entrare nelle problematiche legate al passaggio di parametri a una funzione thread, ho preferito usare queste tre variabili globali. M, che garantirà la mutua esclusione. La costante maxiterazione mette un limite al numero delle iterazioni cumulativo, cioè considerando insieme sia il primo thread che il secondo thread, dei cicli while delle rispettive funzioni. Attenzione che non è detto che ne faccia 60 di iterazioni il ciclo while del primo thread e le altre 60 il ciclo while del secondo thread. Quindi per assurdo può essere che sia un thread mangione che si fa te lui le 120 iterazioni, l'altra neanche una, oppure 60-60 e così via. Dipende molto anche da quello che accade nel sistema, è interessante. Ed ecco la variabile che va gestita in modalità di mutua esclusione, o il thread 1 o il thread 2, ma non tutti e due insieme. E come si fa a garantire l'utilizzo esclusivo? Eh, si utilizza la mutex M. Che ci garantirà che quando uno dei thread sta comandando l'incremento del contatore, conta++, sicuramente non lo starà facendo anche l'altro. Come vedete, la prima istruzione dei due cicli, dei due thread, è la stessa, quel M.Lock. Chi per primo tra i due thread riuscirà a completare l'operazione di lock, taglierà fuori l'altro che rimarrà in attesa, finché chi ha acquisito la mutex la rilascerà con il comando Unlock. Il processo che trova la mutex già acquisita dall'altro thread non è che rimarrà ad eseguire a vuoto dei cicli, verrà messo nella lista dei processi in attesa per lo sblocco di quella mutex. Gli verrà sottratto proprio il processore per assegnarlo ad altri processi o thread e verrà risvegliato quando la mutex si sarà resa disponibile. Ci sono dei dettagli che qua sto nascondendo, li tratterò nella playlist di cui parlavo prima. Comunque, acquisita la mutex, siamo sicuri che il contatore non potrà essere utilizzato dall'altro thread, perché lui non potrà entrare a comandare il conto++, perché non supererà la sua M.lock. Sarà stato fregato dal primo thread, che incrementerà conta, e poi va a nanna, comando su questo thread, uno slip, cioè quindi un sonnellino, di 50 millisecondi, valore scelto a caso. Si autosospende in pratica. Giusto per far passare quel lasso di tempo. Nel frattempo, anche l'altro thread sarà bloccato, su questo M.lock. Soltanto al risveglio del sonnellino, il primo thread sbloccherà la mutex, che tornerà oggetto di contesa per tutti e due i thread. Non è detto che si alternino, cioè che a questo punto, allora sarà per forza il thread 2, è il suo turno. Non si sa, questa cosa non è assicurata. Le mutex non sono uno strumento di sincronizzazione, garantiscono una cosa sola, la mutua esclusione, cioè l'unica cosa che garantiscono è, se gestite correttamente ovviamente, soltanto un processo per volta le può acquisire, bloccare e sbloccare. Ok, poi simmetricamente il funzionamento dell'altro thread è identico. L'altro progetto che usa questo lo vedremo nel prossimo video. Ma nel frattempo, non state quelle mani in mano. si possono fare un fracco di esperimenti con questo primo progetto. Cosa succede se togliamo una munlock da uno dei due thread? Aggiungete qualche comando di stampa per evidenziare chi dei due thread arriva per primo sulla mutex. O per capire quale dei due thread riesce a compiere più iterazioni. funzionerebbe mettere due cicli for all'opposto dei Y, dove ogni ciclo for conterebbe per max iterazioni mezzi? A risentirci. Altra piuttorezza.